Noi presentiamo quest'anno a EnergyMed i nostri impianti di biogasificazione anaerobica per quanto riguarda naturalmente l'utilizzo di una biomassa sia da reflui zootecnici che da, direi, forsu, cioè frazione organica del rifiuto solido urbano. Quindi noi trattiamo il rifiuto a 360 gradi, nel senso che possiamo fare anche la selezione dei rifiuti oltre alla biogasificazione anaerobica per la produzione poi di energia elettrica e di calore. Quindi in Campania quali sono le effettive, cioè cosa fate effettivamente qui su questo territorio? Noi in questo momento siamo stati contattati e contattiamo delle realtà locali, sia realtà che trattano rifiuti, sia realtà zootecniche che hanno dei reflui agricoli, quindi dei reflui zootecnici, quindi da deiezioni animali, ad esempio gli allevamenti delle bufale. Con questi reflui, con queste deiezioni, si produce biogas e calore e poi facciamo anche gli impianti che abbattono l'azoto e quindi questo migliora molto il rapporto tra l'agricoltura e l'ambiente. Quindi quali e quanti sono i vantaggi per l'ambiente del vostro lavoro? I nostri vantaggi sono molteplici, direi. Innanzitutto il rifiuto non è visto come tale, ma è visto come una risorsa importante che genera energia, genera calore, dopodiché parlo del rifiuto solido urbano parte umida. Questo rifiuto poi una volta che è stato trattato deve venire compostato per produrre uno stabilizzato e quindi non ci sono più tutti quei liquami, quelle parti che i rifiuti solitamente rilasciano nelle discariche una volta che vengono stabilizzati. Per quanto riguarda invece il biogas da rifiuto da deiezione animale, il vantaggio è che poi una volta compostato ne abbattiamo l'azoto e quindi rendiamo il digestato appetibile come ammendante organico dei terreni e quindi non più inquinante perché abbiamo tolto l'azoto. Un'ultima domanda, perché scegliere EnergyMed per presentare la propria azienda? Noi diciamo che siamo un'azienda volta in generale a muoverci non solo sul territorio nazionale italiano e come si vede anche dalle referenze noi ci muoviamo un po' in tutti i paesi del mondo come società venturi tedesca. E quindi noi abbiamo scelto anche EnergyMed perché riteniamo che qui nell'Italia centro meridionale ci possono essere delle ottime opportunità di sviluppo perché il trattamento dei rifiuti qui è ancora in una fase iniziale quindi crediamo che abbia bisogno del nostro supporto tecnologico e tecnico per poter migliorare. Allora